E dopo il marito non hai più avuto nessuno? Oggi tante domande un po' indiscrette. No, 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 sai perché? Perché quando si ha un amore in tarda età, un amore così, un amore fatto di contatto, fatto dello stare insieme, fatto di condivisione e di partecipazione a un sentimento, quando si ha un amore così, dopo bisogna portargli il rispetto. Io mi sento ancora Madame Foer. Che bello! Poi, se mi corteggiano, con insistenza, con garbo, può darsi che mi scappa un occhiolino, ma perché ancora mi piace sentirmi una vecchietta, un po' seduttiva. Ho conosciuto un signore che mi era vicino di casa anche lui vedovo e abbiamo condiviso questa assenza dei propri amati per un po' di tempo, ma era quello che ci univa, non era il desiderio. Poi, insomma, voglio dire, io credo di avere abbastanza dato come allegria, come divertimento, come spregiudicatezza, come voracità da quel punto di vita. Sono stata una donna molto vorace, come è stato unsektenimento che non si Ha